Che cosa sta succedendo a Trek Italia? È notizia di ieri che Trek Italia ha chiuso i battenti, ovvero la divisione Trek del nostro paese non esiste più. È stata presa ed incorporata in quella che Trek ha definito, se non ricordo male, la sezione del Sud Europa, che fa capo a Madrid e che riguarda non solo l'Italia, ma anche Portogallo, Spagna e non vorrei sbagliarmi, ma credo anche la Francia. È una brutta notizia, non è una notizia che deve far piacere al nostro mondo. Perché? Perché con questa notizia Trek ha deciso di non osservare direttamente il nostro mercato da vicino. Tutto si sposta a Madrid e la sede italiana chiude, quindi molte persone hanno perso il loro lavoro e sono andate a casa. Quindi da parte mia, ma credo anche da parte vostra, c'è tutta la massima solidarietà per chi ha perso il lavoro, ma questo è un sintomo. Quando una casa produttrice come Trek chiude una divisione in un paese come quello italiano che ha una ricca storia di ciclismo, che ha un mercato incredibile e che è pieno di appassionati che comprano biciclette per andare a gareggiare, ad allenarsi per le Gran Fondo, è il segnale che c'è qualcosa che non va. Io lo è tanto che lo dico, non è un segnale che arriva così a ciel sereno. Questa tempesta si intravedeva ormai da due anni, però questo è un sintomo. È un sintomo di un male che ahimè sta mietendo molte vittime. Oggi è il turno di Trek, Italia, e dei suoi dipendenti, dei suoi lavoratori che non hanno più lavoro. Domani chi lo sa. Ora, che cosa significa questo? Questo significa che il mercato delle biciclette è ancora in crisi. E se un colosso come Trek arriva a chiudere la divisione italiana del suo brand, vuol dire che la crisi non è che sia poi così piccola. Credo che la crisi non solo sia piccola, e questo ce lo siamo detti ormai da tanto tempo, ma sarà anche una crisi molto lunga. Gli analisti del settore prevedono che tutto questo finirà entro il 2025. Cioè, da qui al prossimo anno si dovrebbe vedere un'inversione di tendenza. Io non sono così sicuro, purtroppo. Cioè, sarei felice che tutti questi analisti abbiano individuato la luce in fondo al tunnel, ma ho paura che non sia ancora così. I motivi sono sotto gli occhi di tutti. La situazione, purtroppo, non sta migliorando a livello internazionale. Il costo dei carburanti da qui all'inizio dell'estate sta già aumentando. Perché? Perché le tensioni internazionali stanno andando ad alterare la linea di approvvigionamento e di produzione energetica. Quindi, quando sale il costo dell'energia, parlo di paesi produttori che sono in forte tensione con altri paesi produttori. Il Medio Oriente adesso è molto in fermento. La crisi tra Russia e Ucraina è un altro settore di tensione. E anche le tensioni sul tratto di Mar Rosso, beh, sono tutti segnali che la situazione internazionale è molto instabile. E quando la situazione internazionale è instabile, i mercati sono molto ballerini e questo non porta giovamento. Quindi, la situazione internazionale non è delle più rose e questo si ripercuote anche sul settore delle biciclette. Perché comunque è un settore che risente molto della questione energetica. Inoltre, nel nostro paese, e chissà che Trek non l'abbia anche lei percepito, c'è una stagnazione dei redditi. Cioè, mentre in molti altri paesi europei i redditi sono nel tempo, anche se di poco, aumentati, la stagnazione economica del nostro paese ha fatto sì che anche i redditi non crescessero di pari passo come i redditi dei paesi europei. Quindi vuol dire che in Italia c'è meno soldi, meno denari da spendere. E quindi ecco perché vi dico che secondo me è troppo ottimistico pensare che questa crisi del settore ciclistico passerà entro il 2025. Secondo me c'è da attribolare ancora qualche anno. Credo che una parte importante debbano farla anche i produttori ripensando completamente al loro ciclo produttivo. è inutile avere 80 modelli di biciclette con telai e prestazioni simili. Meglio creare un sistema modulare unico che ti permette magari di creare più bici di diversa categoria piuttosto che avere cataloghi infiniti come Specialized, Canyon, Trek. Ora, Trek su questo ha ridotto il suo catalogo del 40%, quindi sta già lavorando in questo termine, però probabilmente non è bastato. Quindi non è un buon momento per il settore delle biciclette, Trek ha risposto in modo drastico a un periodo di crisi, però la soluzione c'è, va trovata. La mia soluzione, che magari non conta niente, però mettiamola sul tavolo, potrebbe essere quella di ricreare completamente la produzione di biciclette con telai modulari che possono assolvere a più compiti. Quindi vediamo che cosa succede nel brevissimo periodo, da qui a un anno. Spero che il mercato mi smentisca, ma purtroppo non ne sono sicuro. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento alla prossima. Ciao!